Cambiamo argomento, ci occupiamo di elezioni europee a Palazzo Ducale. È stato presentato il sito internet allestito in occasione proprio delle consultazioni del 6 e 7 giugno. Il capo di gabinetto della prefettura di Bolzano, Francesca De Carlini, e la dirigente dell'ufficio elettorale del commissariato del governo della provincia hanno illustrato la loro proposta multimediale per queste elezioni, frutto di un accordo di collaborazione con Informatica Alto Adige, S.P.A. Abbiamo pubblicato anche le modalità di voto e le categorie particolari di elettori. La novità più rilevante è quella legata alla legge sulla missione al voto domiciliare che è uscita e è stata pubblicata soltanto l'8 maggio di quest'anno, dove è stata allargata la categoria degli elettori ammessi al voto a domicilio che peraltro per le nostre elezioni europee, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, non esiste, cioè non abbiamo elettori ammessi al voto a domicilio, non ci sono state richieste. Poi sono state pubblicate le liste dei candidati, quindi i singoli candidati e la fase poi di scrutinio del voto. La fluenza e poi appunto i risultati delle consultazioni europee del 6 e 7 giugno prossimi saranno disponibili al sito internet all'indirizzo www.elezioni.bz.it e ovviamente è disponibile anche la versione in lingua tedesca del portale all'indirizzo www.balen.bz.it